buongiorno a tutti eccoci una breve testimonianza di una signora che ha preso i cerotti con me che per il momento preferiva non mettere il nome chissà la vedremo forse in futuro in una testimonianza io l'ho scritto buondì ci vediamo presto e visto che al telefono mi aveva accennato che appunto stava ottenendo dei risultati interessanti con i cerotti le ho chiesto ti andrebbe di condividere mi fa sì se lo posso fare in maniera anonima e quindi l'ho chiesto di scrivermi in whatsapp e quindi ho scritto ah sì poi mi farà molto piacere sapere qualche dettaglio in più sui tuoi miglioramenti e lei scrive ho iniziato tre mesi fa circa trattamento con più 39 ma x39 e eon i cerotti live wave la sera ho notato da qualche giorno maggiore energia più agilità nei movimenti e miglioramento del dolore locale mani e ginocchia per artrosi sono soddisfatta dei cerotti live wave e spero di confermare nel tempo i risultati avuti ovviamente sono anch'io molto contento per lei chiedo a chiunque stia usando i cerotti che li abbia presi con me o con altre persone di sempre cercare di dare un riscontro anonimo o meno perché questo è l'unico modo per far conoscere i cerotti agli altri per quello anche che l'ho detto grazie mille per aver condiviso queste riflessioni è il più prezioso nonché il solo ed unico metodo per far conoscere questa possibilità di saluto agli altri quindi concludo con questo messaggio di incoraggiamento di condivisione in qualsiasi modo uno si senta a proprio agio video o anche un messaggio audio in whatsapp o appunto un messaggio whatsapp con o senza nome ogni testimonianza fa diffondere la voce e porta alla conoscenza di altri questi cerotti persone che hanno problemi simili ai nostri o semplicemente persone che hanno bisogno di sentire un riscontro di altri prima di prendere certe decisioni nella loro vita grazie grazie dell'attenzione e ci vediamo alla prossima occasione grazie